Spaccio in pieno centro e questo quanto hanno scoperto nel corso di un regolare servizio di controllo alle persone sottoposte alla misura detentiva degli arresti domiciliari, gli agenti della sezione volanti della Questura di Lecce. Un'operazione che ha portato all'arresto di un 21enne leccese pregiudicato perché trovato in possesso di sostanza stupefacente del tipo marijuana e di una pistola a gas priva di tappo rosso perfettamente funzionante. Il giovane era stato arrestato nell'agosto del 2020 dal personale della stessa sezione volanti per rapina commessa in concorso e lesioni personali commesse al danno di un uomo al quale vennero sottratti il cellulare, il portafoglio e l'autovettura nella zona del faro nella Marina di San Cataldo. Nel febbraio di quest'anno per tali reati il ragazzo fu condannato alla pena di 5 anni e 4 mesi di reclusione, pena in corso di ispiezione in regime di arresti domiciliari con braccialetto elettronico. All'interno dell'abitazione del giovane, gli agenti durante la perquisizione hanno trovato tre panetti di hashish del peso totale di 300 grammi circa e tre involucri contenenti marijuana per il peso complessivo di 60 grammi, nonché materiale utile al confezionamento delle dosi ed una pistola a gas come detto poc'anzi. La perquisizione domiciliare ha consentito inoltre di rinvenire la somma in contanti di 1.130 euro in banconote di vario taglio. L'uomo ovviamente è stato tratto in arresto e su disposizione del PM di turno della locale procura della Repubblica è stato condotto presso la casa circondariare Borgo San Nicola.